La Corte Internazionale di Giustizia non si pronuncia e archivia così una delle ultime dispute tra Cile e Bolivia. Con un verdetto non appellabile, il più alto organo giudiziario delle Nazioni Unite ha decretato di non essere chiamato a prendere alcuna decisione, di fatto ribadendo così il carattere internazionale, ormai peraltro riconosciuto da entrambi i paesi, del fiume Silala. Il corso d'acqua attraversa per 4 km il territorio boliviano prima di sconfinare in quello cileno. All'origine della controversia, l'accusa dell'ex presidente Morales, che sosteneva Santiago avesse deviato il corso del fiume per sfruttarne le acque. La rivendicazione prendeva le mosse dal fatto che, negli anni venti, una parte del fiume era stata incanalata artificialmente da una società ferroviaria. Fin dal 2016, il Cile aveva replicato rivendicando il carattere internazionale del Silala davanti alla stessa Corte Internazionale di Giustizia. Nel suo pronunciamento, Santiago vede ora riconosciute le sue rivendicazioni e la paz, l'assoluzione delle accuse cilene di aver violato il diritto internazionale. Grazie. Grazie.